Ciao a tutti e bentornati in una nuova parodia Seguitemi su Instagram, mi chiamo ErdiTipsOnTi Trovate il link in descrizione E via con la sigla Ciao a tutti ragazzi Ben ritrovati nel canale dei due bomber signori Due bomber signori Allora, in questo canale Aspetta, non rompere i coglioni, deve parlare lui In questo canale Principalmente Intanto ci presentiamo Io sono Marco, io sono Giorgio Io sono Matteo In questo canale faremo principalmente challenge In questa Clubhouse Fai vedere camera Minchia di Clubhouse E' casa, cioè l'ho comprata io Quindi è mia E' tua, no vabbè Questo è il canale di tu Perché Aspetta Aspetta e non rompere i coglioni Sta parlando lui Un po' di rispetto Perché due bomber? Perché Ehm Siamo due No Ma veramente E noi ogni volta ci chiamiamo bomber Grande bomber E quindi abbiamo deciso I due bomber I due bomber E' giusto E' giusto E' giusto Quindi Non mi fate Non ci fate domande nei commenti Perché è nato questo canale Così Perché già Ve l'abbiamo Spiegato Ah Mi sento già un po' più soddisfatto Perché il povero ragazzo ha parlato Grazie Cioè Se ci supportate fate meglio Grazie Infatti Se mi supportate fate meglio Perché se no Fatevi in cura Se magari possiamo raggiungere i 50 iscritti Almeno Certo 100 Perché 200 300 Capotti Ah Instagram 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 Allora Signori In descrizione Brava Ehm Bella Bella raga Bella Glorious No I won't give in I won't give in Till I'm victorious And I will defend I will defend And I'll do one Allora